... Seconda l'anno scorso? Sì, quest'anno ho vinto. Meno male. Riesci a dirci com'è andata? È andata benissimo. Sono sempre stata davanti e ho detto o la va o la spacca. Meno male che è andata bene. Come è impostato la volata? Riesci a ricordarlo? Sì, allora ero in seconda posizione. Si sono allargati tutti. Meno male io ho stretto un po' i denti con i gomiti, li ho spostati un po' e sono riuscita a passare. Questa maglia, questo sogno, a chi la dedichi? A tutta la squadra, alla mia diretta associativa e a tutti, tutti quelli che mi conoscono.